Da dopodomani lunedì 24 agosto e fino al 20 ottobre, presso le librerie convenzionate con il Comune di Parma, ci sarà la possibilità di utilizzare i buoni libro riservati alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di primo grado per l'anno 2015-2016. Il buono libro finanziato con risorse comunali e regionali viene erogato sotto forma di uno scontro praticato direttamente al momento dell'acquisto, producendo l'attestazione rilasciata dalla scuola all'atto della presentazione della domanda ed un documento di identità. Le famiglie, che a seguito del bando pubblicato dal 1 giugno al 31 luglio 2015, abbiano visto accogliere la propria richiesta tra il 24 agosto e, come detto il 20 ottobre, potranno dunque acquistare o prenotare i libri di testo per la scuola secondaria di primo grado, usufruendo del contributo per buono libro. Sono state 810 le domande presentate. Per gli alunni residenti nel comune di Parma, il buono libro ha un valore che corrisponde all'83% del costo fissato dal Ministero per l'istruzione. Il libraio scelto dalle famiglie, tra quelli convenzionati, fornirà i libri di testo obbligatori, applicando sulla spesa il buono libro assegnato alla famiglia. Tutte le informazioni in proposito sono reperibili sul sito internet del comune di Parma oppure direttamente presso gli uffici competenti dell'ente.